Allunga il Montori 88, ora più tre dalla coppia di inseguitrici. Un gol del bomber Pigliacelli consente alla band di Di Luigi di festeggiare sempre più il vertice, regolando di misura il capistrello nella parte destra della classifica. Il Sulmona perde il passo, ma rimane in seconda posizione dopo la sconfitta rimediata al Valle Azzuca di Francavilla, 1-0 in finale, con i giallorossi che salgono ora a ridosso delle battistrada. L'Alba Adriatica raggiunge i Peligni a quota 16, pareggiando 1-1 sul terreno del Cologna Paese. Sale anche il Casalincontrada, Corsaro Alpatini di Casteldisangro, con pagine in grave crisi, 3-1 in finale, pratica chiusa già dopo la prima mezz'ora di gioco. Amiternina e Sporting Tullum si dividono la posta, confermando una lunghezza di distacco tra le due, 1-1 in finale, con vantaggio ospite e pareggio locale. Il Vasto Marina, una delle compagini favorite del torneo, perde a Martinsicuro, con i bianco-azzurri alla prima vittoria stagionale, 3-1 in finale, e per i biancorossi tutto da rifare, in ritardo di ben 9 punti rispetto alla vetta. E se il San Salvo viene bloccato in casa dal Mosciano, 1-1 in finale e padroni di casa penalizzati dalle assenze pesanti, la Rosetana batte a domicilio la Spallanciano col classico 2-0, Spallini desolatamente ultimi in classifica e con un futuro nebuloso. Prima vittoria del torneo anche per il Guardia Grele, che batte per 2-1 il quotato Pineto e comincia finalmente a respirare un'aria diversa.